La documentazione e le relative cartografie erano già state depositate due anni fa in regione. La PV Freire SRL, società con sede legale nell'ennesa, ha presentato le istanze per arrivare all'autorizzazione unica e ottenere la via libera alla realizzazione di quello che viene presentato con un vasto parco agro-eco-fotovoltaico con potenza da 87,96 MW. L'intero progetto dovrebbe sorgere in aree ricomprese nella zona agricola di Contrada Badia Collegio. I responsabili della società solo pochi giorni fa hanno completato le integrazioni richieste dai funzionari del Dipartimento regionale dell'Ambiente. È stata rivista la documentazione progettuale ambientale sulla scorta di un parere intermedio rilasciato dalla Commissione Tecnica Specialistica. È in atto la fase di valutazione ambientale legata anche alla procedura di incidenza. Sono passaggi propedeutici al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, lo stesso che ormai anni fa, prima della revoca, era stato concesso per uno dei primi maxi investimenti in questo settore. Quello che avrebbe dovuto sorgere su iniziativa della cooperativa Agroverde invece rimase solo alle prime battute, naufragando senza possibilità alcuna di vedere la luce. È stata riaperta la fase per la presentazione di osservazioni con l'avviso pubblicato e trasmesso anche a Palazzo di Città. L'impianto presentato dalla società prevede l'installazione a terra su vari lotti di terreno di estensione totale pari a 998.430 m2. Attualmente è un'area tutta a destinazione agricola. Si tratta della collocazione di pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino. Il progetto prevede complessivamente 169.395 moduli che occuperanno appunto la superficie. Tutti i dati che sono riportati nella documentazione tecnica fino ad oggi, nonostante diverse istanze presentate in regione, progetti simili non hanno mai trovato concretizzazione e anche la realizzazione delle aree agricole ha fatto spesso discutere.